amici di youtube ben trovati da marco liguori avviso importante quando questo video dovesse superare i 500 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo lasciate il vostro piace adesso per avere subito online un nuovo video di marco liguori non un video qualsiasi un nuovo video di albano e romina vi ricordo anche che este video tambien ne sta tradusito all'espanol amici di youtube parliamo tanto di loro albano e romina ci tengono compagnia con le loro meravigliose canzoni ma non tutti conosciamo i segreti dei due cantanti oggi nella fattispecie sveleremo un segreto che albano ha dichiarato in una recente intervista qual è il sogno del grande tenore del grande cantante di eccellino san marco ebbene sì anche albano sebbene abbia vissuto una vita straordinaria una vita di successi soprattutto una vita d'amore nei suoi confronti da parte di romina e di tutti noi fan che lamiamo ha ancora degli obiettivi avere obiettivi e molto importanti non si è mai abbastanza grandi per avere un obiettivo l'obiettivo barra sogno di albano è quello di produrre 5 milioni di bottiglie di vino l'anno e quanto emerge da un'intervista rilasciata dal cantante di cellino san marco al momento albano fa notare ci fa sapere che produce 1,4 milioni di bottiglie di vino l'anno ovviamente parliamo principalmente del vino che albano ha dedicato a suo padre il vino don carmelo davvero straordinario personalmente l'ho provato credetemi è davvero un vino straordinario scrivete nei commenti solo a titolo di informazione se avete provato il vino di albano è davvero straordinario amici youtube vado a tradurre questa notizia anche per tutti gli amici della spagna e dell'america latina ringrazio innanzitutto tutti coloro che di recente si sono iscritti dal venezuela colombia cile ecuador messico paraguay uruguay el salvador argentino ovviamente ringrazio i cari amici che mi seguono dalla spagna e diciamo che ad nos compagnia con sus canziones però no no todos se dicen siempre albano declara mi sueño es producir 5 miliones de bottiglie de vino de vino al agno por el momento produzco uno amici youtube grazie a todos grazie a tutti gli amici latini e scrivete nei commenti ovviamente anche nella vostra madrelingua cosa ne pensate di questa notizia amici youtube ricordandovi che qualora questo video dovesse superare i 500 like ne realizzerò immediatamente uno nuovo un video di albano e romina vi ricordo che potete seguirmi anche su instagram marco ligurisette un profilo su cui pubblico gli aggiornamenti più recenti di albano e romina quindi iscrivetevi se non avete un profilo instagram createvelo e venite subito a trovarmi mettete il primo like del vostro nuovo profilo al mio profilo marco ligurisette amici youtube grande notizia grande novità non l'ho accennato all'inizio di questo video ve lo dico adesso da stasera ripartono sul secondo canale le live streaming se non siete iscritti al secondo canale di marco liguri fatelo subito è il canale su cui realizzo le live streaming non c'è trucco e non c'è inganno tutto il contenuto viene realizzato in diretta un'occasione straordinaria per farci compagnia a vicenda quindi amici youtube da stasera vi aspetto ogni sera alle 8 e 30 sul secondo canale di marco liguri iscrivetevi subito qualora non lo abbiate già fatto sono in live ogni sera e qualora i live dovessero prendere piede qualora dovessero avere successo realizzerò anche più di una live al giorno vi aspetto numerosi intanto ricordatevi di commentare questo video commentate il sogno straordinario di albano che spera di realizzare di arrivare a realizzare in futuro 5 milioni di bottiglie di vino all'anno al momento ne produce soltanto 1,4 milioni io vi ringrazio per l'attenzione iscrivetevi al primo canale di marco liguri attivate la campanella si trova in basso a destra io vi ringrazio per l'attenzione buon proseguimento su youtube